Ha contribuito prima al passaggio a Roma in Parlamento e poi dopo appunto alla straordinaria esperienza e all'enorme onore di fare il sindaco di Prato. La politica la fai come la faccio io, come fanno gli assessori e fanno i consiglieri comunali, ma la politica la fai in tanti modi. Avere un ruolo in un'associazione di categoria è fare politica, montare su un'ambulanza e fare i servizi volontariato è fare politica. Allenare una squadra di bambini di calcio, basket, pallavolo, rugby è fare politica, nel senso è prendersi cura della tua comunità. Ognuno, secondo me, è un'esperienza che dovrebbe fare nella vita perché è qualcosa che ti rende molto di più di quello che tu dà in termini di tempo e di energie. Sono Gianmarco Barluzzi in arte Giassa e vi do il benvenuto a Podcast. Siamo a Prisma Lab e in questa rubrica vi parleremo delle eccellenze del territorio di Prato. Siete pronti a immergervi nelle storie di chi ogni giorno fa grande questa città? Allora, allacciate le cinture, Podcast sta per iniziare. Benvenuti alla prima puntata del Podcast, il podcast di TAC in collaborazione con Prisma. Oggi siamo a Prisma Lab per la primissima puntata insieme al primo cittadino di Brato. Grazie dell'onore, grazie dell'onore, è un fantastico, mi sento un privilegiato veramente. Prima puntata, primo cittadino, ci sta. E come abbiamo già anticipato, questa serie di podcast avrà una tematica che inizia per ogni lettera della parola Prisma. Quindi, prima puntata, lettera P, politica, Prato e quindi non potevi che esserci tu. Ecco, grazie, mi fa molto piacere. Benvenuto. Beh, allora, questo podcast ha come ispirazione quella di ispirare i giovani cittadini, che possono uscire dalle superiori, dall'università, aspiranti imprenditori, che appunto vivono quotidianamente la città e il nostro territorio. E quindi ogni puntata una persona del territorio è eccellente e può raccontare una tematica. Però ci piaceva fare anche un po' un racconto, capire. Ma il sindaco, prima di fare il sindaco, chi era? Cosa faceva? Come ci è arrivato? E come facevo? Facevo quello che si faceva tutti. Ho fatto l'università a Firenze, poi un'anno a Bologna, diciamo, di specializzazione. Mi sono divertito molto, è stato un anno divertente della mia vita. Servizio civile, Prato e Comune di Prato. E qui, torna. Noi seguivamo ragazzi con disabilità, io andavo all'università con questa ragazza, preparavamo gli esami insieme, tutto questo passaggio. E poi davamo una mano all'allora classe di sostegno per ragazzi autistici. Per me è stato un bel trauma non banale, uno shock non banale. Poi ho lavorato, ho fatto un po' di esperienze di lavoro, eccetera. Poi a un certo punto, ovviamente avendo preso l'abilitazione come avvocato, ho fatto la pratica legale da un paio di studi e poi alla fine, diciamo, mi sono messo insieme ad altri due amici, oltre ai colleghi ovviamente. E nel frattempo facevo il consigliere comunale. Facevo il consigliere comunale. Lavoro e politica. Sì, lavoro e politica, che è sempre stata l'altra grande passione. Poi alla fine insieme andare a vedere il Prato, insieme andare fuori con gli amici. Insomma, le solite cose si fanno un po' tutti. Però ho iniziato a fare un consigliere comunale, poi la vita, il percorso, un po' di fortuna, essere al posto giusto in certi momenti. Ha contribuito prima al passaggio a Roma in Parlamento e poi dopo appunto alla straordinaria esperienza, all'enorme onore di fare il sindaco di Prato. Ecco, te lo saresti immaginato prima? No, 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 oggettivamente no. E sai, quando inizi a fare politica e ti appassioni un po' l'idea di fare... Ho appassionato a squadra di calcio, faccio il capitano della mia squadra del cuore, no? Dici, porca miseria, ma che magari non ne mi ha detto sì il Real Madrid o chissà che. Però può essere, diciamo, ovviamente è quella che ti hai sempre difato. Lo stesso vale a grandi linee per fare il sindaco. Uno magari un po' si aspirerebbe anche, gli piacerebbe anche. Però non è che ci pensi... Poi un po' il sogno nel cassetto e poi non sai mai se si realizza. Esatto, e invece... Ma io invece sono fortunato, lo dico sempre, quando la gente mi dice ma ora dopo che fai, che succede? E io ragazzi, intanto io ringrazio perché ho avuto un'esperienza pazzesca. Sono stato in Parlamento a Roma, sono stato dieci anni il sindaco della mia città. Per me è già tanta roba. Quindi vediamo quello che ci riserva al futuro. Adesso in questo momento, cioè, vediamo. Però ecco, io già davvero ho fatto per me. Ecco, ma prima di iniziare avevi un modello di riferimento, anche quando eri giovane, quando eri un ragazzo, sei ancora giovane? Non ti rete, sì. Beh, ero giovane. Ma no, un modello vero e proprio, no. Ammiravo delle persone, cioè nel senso è chiaro che come tutti noi abbiamo dei punti di riferimento, anche in politica. Cioè. Però poi alla fine, per me all'inizio era veramente una passione, era veramente qualcosa che facevi, facevi consigliere comunale e mettevi quel tempo a disposizione della città, mettiamola così, sottraendolo, poi le tue cose, in particolare il tuo lavoro. Però diciamo, per me era un bell'impegno perché mi piaceva farlo. Però non è che avevi questa idea, ora voglio diventare Che Guevara, Berlinguer o chissà chi. Ecco, lo facevi perché ti piaceva, perché io mi sono sempre divertito a parlare delle cose della città. Ma hai avuto mai un personaggio, hai un personaggio a cui ti ispiri di più? Ma in politica non più di tanto. Però mi piacciono, diciamo, mi sono sempre divertito, mi piace leggere Charles Bukowski, mi piace ascoltare Carcobain, personaggi un po' complicati, da questo punto di vista, almeno dal punto di vista anche dell'esegesi e del tipo. Però sono persone a cui mi piace fare riferimento perché mi fanno stare bene. Invece per quanto riguarda la politica in sé, secondo te, sembra quasi scontata, ma quanto aiuta le persone? Quanto deve aiutare e quanto si può fare ancora di più? Allora, secondo me, fare politica è la cosa più divertente che c'è. Nel senso, lo dico perché, e poi, guarda, non ci sbagliamo, la politica la fai come la faccio io, come fanno gli assessori e fanno i consiglieri comunali, ma la politica la fai in tanti modi. Fare, avere un ruolo in un'associazione di categoria è fare politica. Montare su un'ambulanza e fare i servizi volontariato è fare politica. Allenare una squadra di bambini di calcio, basket, pallavolo, rugby è fare politica. Nel senso è prendersi cura della tua comunità. Ognuno, secondo me, è un'esperienza che dovrebbe fare nella vita perché è qualcosa che ti rende molto di più di quello che tu dà in termini di tempo e di energie. Poi ognuno però deve trovare la sua strada. Cioè, come ti garba a farla? A me, guarda, io mi sento bene ad andare a fare servizio su un'ambulanza. Bene, e te c'è già il servizio della comunità. Poi c'è il livello, come dell'upgrade, il livello, diciamo, il premium, come nelle offerte, che è quello della politica fatta attraverso i partiti, dentro i consigli comunali, magari dentro le istituzioni amministrative, fare il sindaco, l'assessore, eccetera. Questo è già il livello superiore. Però la politica si fa in tanti modi. Quello che io mi sento di dire è che fai bene della comunità è mettere a disposizione un po' delle proprie energie per il contesto in cui vivi. Nelle modi e nelle forme che ti trovi efficaci. Quanto serve? Tanto serve. Se è fatta bene, serve tanto. Se è fatta con passione, non risolve tutti i problemi. Anche perché ogni tanto anche noi siamo esseri umani e quindi fallibili. Le si buttano di fuori, non si risolve il problema. Però diciamo, se è fatta con passione, cioè nell'interesse della comunità, è fondamentale. E cosa ti aspetti per i prossimi dieci anni della politica invece? In che evoluzione può avere? Io, senti, non ci ho fatto tanto conto adesso. Dopo tutta questa adrenalina ho bisogno anche di, come dire, di un attimo di stacco. Poi vediamo se la... non ho un'ansia da poltrona, te lo dico molto onestamente. Se la vita nel corso dei prossimi tempi mi riserverà qualcosa che mi piace, che mi affascina, a me la politica piace, non è che lo nego. E quindi può darsi ci sia. Cioè mi impegnerò anche su questo fronte. Ma se no faccio altre esperienze. Invece la politica in generale, come la vedi tra dieci anni? Qui si parla sempre di intelligenza artificiale. Come credi che possa impattare anche nella politica? Come tutte le tecnologie tutto aiuta. Anche chi fa politica, poi alla fine, diciamo, prendere una decisione ti viene facilitato, mettiamola così, dai percorsi e le nuove tecnologie, l'intelligenza artificiale, permette la parte massima, non so come dire, di questo tipo di proposta tecnologica. Però io penso che la politica alla fine la fanno sempre gli uomini, cioè gli esseri umani. E quindi la decisione finale, come dire, il punto di caduta rispetto a delle trattative, la scelta se mettere i soldi prima su un intervento che su un altro, quello la farà sempre la testa e il cuore di un essere umano. Non credo ci sia modalità differente, non ci può essere una sostituzione. Sarebbe a quel punto, come dire, la gestione dei tecnici completa non può essere. Soprattutto in una città. La città la devi conoscere, devi sapere se c'è più bisogno a Vergaio, piuttosto a Maliseti, se c'è più bisogno su un campo sportivo o su un giardino. Questa è una cosa che solo l'essere umano sa. Invece ti chiedo, cosa consiglieresti se una persona vuole scendere in politica, vuole fare politica? Dio buono, bene. Cosa gli consiglieresti di fare? Come potrebbe iniziare? Un giovane anche. Ma senti, io gli consiglierei, ovviamente per quanto mi riguarda, mi dovrebbe preventare un partito, prendersi una responsabilità, partendo da quelle che sono le cose, magari più vicine a sé, che conosci meglio il tuo partiere, e inizi a fare un percorso anche all'interno, diciamo, dei circoli, del partito, prendendoti cura dei pezzettini delle cose da fare che ci sono in il tuo quartiere. Poi da lì vedi di crescere, inizi a occuparti di tutto il raggio della città, ti dà l'affare, ti impegni, magari anche con associazioni di volontariato, come ho iniziato io, ti puoi fare carico di, come dire, battaglie che ti fanno stare bene dal punto di vista proprio tuo personale, contro la pena di morte nel mondo, piuttosto che dentro le grandi associazioni ambientaliste, anche questo uno trova un po'. Aiuto. E poi da lì decidi di fare un percorso di crescita, appunto, magari candidandoti in un partito, in un consiglio comunale, eccetera, eccetera. Questo, io mi sento molto, come dire, tranquillo nel consigliarlo, perché se scatta la scintilla, è un amore che non si spenge più. Invece, visto che te hai dato un consiglio a dei giovani aspiranti, politici, ma invece avessi la macchina del tempo, potessi tornare a dare un consiglio al Matteo Biffoni di 10-15 anni fa? Eh, guarda, diciamo, rispetto a quello di 10-15 anni fa, direi di essere meno istintivo e di, come dire, riuscire a metabolizzare tutto quello che ti arriva, comprese le critiche, comprese l'offese, comprese complimenti, comprese, in maniera molto più razionale e più, meno enfatica di come facevamo 10-15 anni fa. Per cui tutto era dalle stelle alle stalle, in un minuto o comunque vada anche una piccola nube e diventava un temporale o un piccolo raggio di sole e diventava l'apoteosi. Ecco, quello gli direi attenzione, sii più, come dire, equilibrato, fai un percorso di valutazione senza farsi abbattere troppo dai, come dire, dai punti deboli e senza saltarti troppo nei momenti di, come dire, di effettivamente di grandi complimenti. Trova un punto equilibrio. Questo io l'ho imparato nel corso del tempo a gestirla meglio, l'emozione, mettiamolo così. Bene, siamo all'ultima domanda. Per lasciare un qualcosa anche di fruibile, hai un libro che consiglieresti agli altri, a dei giovani appunto aspiranti politici o comunque un libro che ti ha cambiato, ti ha toccato o perché no, anche un podcast, visto che stiamo parlando nel mondo dei podcast. Podcast non ne ascolto, ti voglio dire la verità e quando trovo tempo leggo un libro. Chiede alla polvere, John Fante è un grandissimo libro, meno a me mi è piaciuto tantissimo, tutta la biografia, tutto quello che ha scritto Ciar Bukowski, lo dicevamo prima e anche diciamo almeno i primi tre o quattro libri di Roddy Doyle sono veramente divertenti. Per me tutta la contemporanea anglosassone è una grande, una grandissima fonte di ispirazione il V. Wesh, John King, insomma tutta roba che io leggo molto volentieri quando c'è il tempo. Quando c'è il tempo, quando c'è il tempo. Quando c'è il tempo. Bene, grazie mille per aver fatto parte della prima puntata del posto. È stato un grande piacere e un grande onore. Grazie ancora, ci vediamo nella prossima puntata. A presto e alla prossima. Ciao. Podcast, il podcast di TAC. Questa puntata in collaborazione con la Casa delle Tecnologie Emergenti Prisma è stata ideata da Gianmarco Barluzzi in collaborazione con Filippo Belli. Riprese regia audio-video di Lorenzo Guasti. Registrato presso Prisma Lab si ringrazia il Comune di Prato per l'ospitalità e la collaborazione. Ascolta Podcast sulla tua piattaforma di ascolto preferita. Segui tutte le novità su podcast.it e sui nostri social.